L'odore delle castagne arrostite, il profumo del vino, l'inconfondibile aroma del tartufo. Alla 28esima Mostra Mercato Nazionale del Tartufo ti aspetta questo e molto altro. Vieni a trovarci il 6, 7 e 8 novembre a Fabro. 28esima Mostra Mercato del Tartufo di Fabro. Gusto e qualità per un weekend di squisite e bontà. Grazie a tutti.